ciao a tutti ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale un click gratis su iscriviti ed attivate la campanellina si sente tanto parlare di Oktri in questi giorni io penso solo ed esclusivamente che Oktri stia facendo delle manovre moderate per portare avanti il filone così com'è non c'è nessuna voglia di investire ma c'è la voglia di mettere questo maledetto bilancio in ordine e qualora Oktri avesse avuto un progetto pluriannuale la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di mettere un tetto ingaggi a quattro milioni come hanno fatto dall'altra parte di Milano per esempio mentre gli ingaggi sono tutti raddoppiati un fondo speculativo questi squali che bevono il sangue come li definisce Effenberg la prima cosa che avrebbero fatto sarebbe stata quella di vendere Celanoglu a 40 50 milioni a 30 anni e liberarsi di un ingaggio pesante anche perché Celanoglu il prossimo anno non lo vendi a 40 50 Celanoglu va per i 31 anni e ormai sta perdendo quasi tutto il valore perché il play del nostro schema è un ruolo massacrante sia mentalmente che fisicamente ricordatevi Brozovic che dai 31 anni poi a livello fisico calò molto poi dopo è andato a pascolare tra i cammelli riempito d'oro ma quello è un altro discorso quindi non ci vedo nessun progetto pluriannuale Oktri secondo me si vuole liberare dell'inter il prima possibile mettendo a posto un paio di paletti e sappiamo tutti quali quali sono eh vedo la gente stupita Mkhitaryan come mai che succede che non succede succede che Mkhitaryan a gennaio a 36 anni succede che non è un cyborg e succede che ormai è un giocatore a fine carriera succede che a Cerbi nel 2025 va per i 37 anni e non tiene più due partite a settimana io l'ho detto ma non serviva un genio per capirlo questa squadra appena dovrà affrontare le due partite settimanali andrà in una grandissima difficoltà perché la panchina non è assolutissimamente a livello dei titolari e a a mio avviso noi possiamo contare su quindici giocatori non di più bisogna smettere anche di incensare secondo me le operazioni di mercato perché poi alla fine quest'anno ora me l'hanno copiata l'hanno detta anche in un altro canale ma bisogna eh un attimino mettere da parte il mulino bianco questo non vuol dire essere negativi vuol dire guardare le cose come le stanno senza mettere la polvere sotto il tappeto l'è totalmente diverso quindi di cosa ragioni di cosa stai ragionando voglio aprire io gli acquisti che sono stati fatti quest'anno non sono stati fatti in proiezione di miglioramento della squadra gli acquisti che ottria fatto palacios e joseph martinez parliamo di più di venti milioni sono stati fatti per aumentare il valore della rosa sperando che l'allenatore li faccia giocare e su questo penso non ci piova perché vedremo perché alla fine cioè quello ti dico io basta incensare basta noi abbiamo i più forti di qui i dirigenti di qui i dirigenti di là sono stati buttati soldi in accesso anche dai nostri dirigenti arnatovic correa gosins sono già 100 milioni lazaro 122 di cosa ragioni tutti sbagliano tutti sbagliamo è normale sbagliare fa parte della vita sbagliare vincere perdere non c'è nulla di male io però voglio dire una cosa io voglio dire una cosa se quest'anno decidi di investire 15 milioni su un portiere che ancora non ha mai giocato o a fine anno dopo un anno di inattività per così dire si rivela come giuro cesaro oppure è un'operazione fallimentare io faccio un esempio ne parlavo con michele che saluto è tornato dalle vacanze vai dalla roma gli dici guarda cumbulla e abram hanno fatto ridere intanto ti do 20 milioni me li dai questi due ragazzi cosa cavolo sono queste due operazioni non servono a nulla sono operazioni futuribili in ottica di vendita della società e quindi quando hai le pezze al sedere me lo dici dove vuoi andare per come la vedo io io prendo tutto quello che viene quest'anno cercando di arrabbiarmi il meno possibile poi è normale per di un derby con gente e non scende nemmeno il campo e tutti i cazzi ti cazzi per forza ti cazzi anche perché tatticamente purtroppo ci hanno massacrato anche tatticamente nel derby perché in zaghi in quella partita in zaghi non si può giudicare per una partita sbagliata ovviamente ma in zaghi a livello tattico non ci ha capito nulla perché loro ti hanno schermato con le quattro punte davanti e ti hanno bloccato tutte tutte le fonti di gioco quindi Emma Mkhitaryan di qui è così ragazzi trentasei trentasette anni questi Mkhitaryan, Nacerbi, Darmian sono giocatori che dovrebbero giocare in Coppa Italia a mezz'ora non essere titolari e non solo sono titolari questi giocatori a questa età ma sono fondamentali per quello riguarda la Juve con il bilancio rosso a 200 milioni è una vergogna perché loro non avrebbero potuto prendere nemmeno Blaovic loro non avrebbero potuto fare quel mercato che li ha fatti entrare in Champions League l'anno scorso e quello è successo in Repubblica che sciopera contro Elkan è una vergogna per il calcio italiano è una cosa di Juventini lo so che il discorso dell'eredità di Elkan non c'entra nulla con la Juve anch'io feci un video provocatorio sempre in termini di sfottò mai offensivo ma quante volte avete rotto i coglioni con le cose personali di Zang e ci buttavate nel mezzo l'Inter gobbi malefici quante volte vi abbiamo detto guardate che quelle sono robe di Zang non c'entra nulla l'Inter e vedi si sta male quando te lo fanno a te io per quello fecivo il video lì non so che non c'entra nulla la Juve ma la Juve c'entra nei 200 milioni di perdita la Juve c'entra che non poteva fare l'operazione Blaovic quindi che succede hanno detto tutti e la Juve non avrebbe potuto fare l'operazione Blaovic se tramite anche Blaovic ti è andato in Champions League quindi avete falsato il campionato avete falsato la vostra partecipazione in Champions League come funziona? Non lo so spiegatemelo voi di cosa ragioni allora domani a Udine occhio io te lo dico domani a Udine occhio non lo so chi gioca domani ma domani a Udine occhio per quello riguarda Lautaro Lautaro Martinez non è un cyborg è anche vero che lui fa sempre i salti mortari per andare in nazionale io Lautaro ti ho sempre difeso anche quando giocavi a testa bassa e sbagliavi i gol da tre metri dalla porta perché per me sei un fuori l'asse per molti non lo sei però ti voglio dare un consiglio Lautaro perché se no altrimenti verrai criticato continuamente visto la cifra che prendi se il giocatore più pagato della Serie A proprio con Blaovic la nazionale argentina qualche volta cerca di rimanere a Milano di allenarti di più non è una critica Lautaro è un consiglio perché ti ripeto io ti difendevo anche quando sbagliavi i gol a tre metri anche se anche se li facevi i gol ovviamente non so se mi sono spiegato cerca di rimanere a Milano qualche volta in più ad allenarti perché vedi poi dopo fai i gol i cominciano le polemiche ma non fa più gol pensa solo all'argentina ha preso 10 milioni c'ha la pancia piena vedi poi che succede Lautaro cerca di pensare un po' di più all'Inter si sa che vuoi bene all'Inter però purtroppo quando si chiede bisogna dimostrare di più hai chiesto tanti soldi sei costretto a dimostrare di più infatti vedi un fondo speculativo che ha praticamente un progetto a lungo raggio da 10 milioni a giocatori ma non esiste dimmi chi piglia 10 milioni in Milano Milano e te ti ingaggi a 4 5 cosa che oltre non l'ha nemmeno fatto gente ragiona senza nemmeno sapere di cosa ragiona ci becchiamo più tardi ciao grazie a tutti grazie a tutti